Come sapete Sogei è un'azienda che da oltre 40 anni è al fianco della pubblica amministrazione. Diciamo che a noi piace considerarci un po' come il braccio armato della PIA, come un'azienda che aiuta e supporta le diverse amministrazioni che sono nostri clienti nell'informatizzazione dei propri servizi. In 40 anni di storia, diciamo anche che sono orgogliosa di averne vissuti parecchi, abbiamo assistito a tantissimi cambiamenti, tra cui forse quelli più importanti sono avvenuti proprio in questi ultimi anni. Abbiamo visto una fortissima accelerazione perché, come dicevi tu prima, siamo proprio passati dall'informatizzazione di quelle che una volta si chiamavano le pratiche d'ufficio, c'è l'automazione fondamentalmente dei processi di back office ad una informatizzazione più globale che mette al centro il cittadino e le sue esigenze, ovvero le imprese e le loro esigenze. Infatti si dice che leggendo un po' in giro che stiamo vivendo la quarta rivoluzione industriale, dopo il carbone, l'elettricità, le macchine automatiche, siamo arrivati a non automatizzare più il lavoro, la forza, ma a automatizzare la cognizione. Cioè è una rivoluzione che sta al fianco di tutti noi, non per facilitarci il lavoro, non solo per quello, ma per farci vivere anche una vita migliore. E questa mi sembra una rivoluzione epocale. Per cui è proprio in questo scenario di grandi cambiamenti che collocherei un po' l'esperienza della realizzazione di Muni, ad esempio, che è stata una delle ultime grandi fatiche, tra virgolette, che ci ha visto coinvolti. L'esperienza è stata sicuramente estremamente interessante e allo stesso tempo molto sfidante. È stata una corsa contro il tempo, principalmente. Tenete presente che siamo partiti con i Muni, siamo stati coinvolti in questa avventura che eravamo in pieno lockdown, era la fine di aprile. E la sfida è stata vinta grazie anche ad una squadra molto coesa che vedeva uniti per la prima volta pubblico e privato. Io credo che nella storia del nostro paese era la prima volta che tante forze di natura così diversa fra di loro si univano con lo scopo di sviluppare un prodotto. Perché la parte pubblica era rappresentata dal Ministero dell'Innovazione, della Salute, la Ragioneria Generale dello Stato, da noi, da Sogei e dal garante della privacy. Perché mai, come in questo caso, possiamo parlare di privacy by design. Per il privato c'era chiaramente Apple, c'era Google, c'era Bending Spoon, c'era Huawei che è entrata dopo. Per cui, come ho detto prima, in Muni noi siamo partiti con il coinvolgimento di Sogei e è iniziato alla fine di aprile. E se ricordate, poi in Muni è stata rilasciata sugli store a partire dalla fine di maggio e scaricabile dagli utenti a seguito del parere positivo del garante della privacy che è stato rilasciato il primo giugno 2020 dopo tantissime interlocuzioni anche notturne. E di questo siamo infinitamente grati al dottor Modafferi che ci ha supportato in tutto e per tutto. Per cui, capite bene che poco più di un mese per risolvere tutti i problemi tecnici, i framework di Apple e Google che sono stati rilasciati con qualche giorno di ritardo e, come tutte le cose, non erano perfetti al primo rilascio. E problemi amministrativi, decreti da far uscire, organizzazione del processo di sblocco del telefono e del processo proprio sul territorio. La sperimentazione che siamo riusciti a fare con quattro regioni è durata pochissimo perché abbiamo avuto solo 15 giorni per sperimentare. E diciamo che costantemente noi ci siamo tenuti in contatto con il garante, come ho detto prima, tutti i meccanismi, tutte le implementazioni sono state decise direttamente assieme a lui e assieme a lui e chiaramente ai suoi tecnici. Che cosa abbiamo imparato? Abbiamo imparato tante cose, ma una cosa fondamentale abbiamo imparato, una cosa che avevamo già visto anche in altre occasioni, perché, come tu dicevi prima, Sogei ha sviluppato al fianco della pubblica amministrazione e piattaforme, quali quella della fatturazione elettronica, della ricetta elettronica, dei certificati di malattia, l'anagrafe nazionale della popolazione residente, la lotteria dello scontrino che preso andrà online. Ma anche qui abbiamo avuto la conferma che la tecnologia da sola non basta. Cioè la convinzione che la tecnologia possa fare tutto è fondamentalmente errata. La tecnologia deve essere sempre vista solo come un servente. Se vogliamo sviluppare delle piattaforme di successo, dobbiamo continuare a mettere al centro sempre di più i cittadini, le aziende, come nel caso chiaramente della fatturazione elettronica, con le loro esigenze. Adesso le tecniche di design thinking che si stanno diffondendo sempre di più anche nella pubblica amministrazione, sicuramente ci stanno aiutando ad affrontare questi temi in maniera più semplice, senza preconcetti, chiaramente sempre nel rispetto della privacy e più in generale dell'etica. Noi dobbiamo imparare a stare al fianco dei cittadini, delle imprese, dobbiamo imparare ad ascoltare le loro esigenze e adattare i nostri sistemi non solo alle norme, ma li dobbiamo modellare nel rispetto della vita reale. Teniamo presente che negli ultimi due anni è stato creato il 90% dei dati mai generati nell'intera storia dell'umanità. E tenendo ben presente questo, non ci dobbiamo dimenticare, soprattutto se parliamo di etica, che i nostri sforzi da adesso in poi si devono concentrare sugli algoritmi dell'intelligenza artificiale e sui dati che le sono serventi. Non ci dobbiamo dimenticare che i dati, assieme alla grande capacità elaborativa che ultimamente negli ultimi anni è diventata sempre più accessibile anche a prezzi contenuti, sono riusciti a rendere finalmente funzionanti delle famiglie di algoritmi su cui c'erano data scientists, allora non si chiamavano così, che lavoravano già dagli anni 60. Nella pubblica amministrazione siamo ancora abbastanza agli inizi e fortunatamente voglio dire molto cauti, perché siamo comunque fermamente convinti che ogni algoritmo, qualsiasi esso sia, deve includere valori numerici sicuramente, ma anche valori etici. Concludo soltanto citando una frase del professor Benanti, di padre Benanti che dice che è l'etica che deve contaminare l'informatica.